Amici di Unibet, eccoci qua, pronostico di Inter-Torino, partita difficilissima, Torino 15 punti, Inter 11, Torino in salute, grande entusiasmo, il lavoro di Mihailovic sta portando a livello alto in classifica al Toro e l'Inter che vive in momento di difficoltà. La logica è che il Torino cercherà di sfruttare anche le condizioni ambientali non perfette in questo momento dell'Inter, però l'Inter ha giocatori di valore che in qualsiasi momento possono essere protagonisti. Quindi se seguo la logica, in questo momento tutti siamo per il Torino, però nel calcio niente c'è di certo e secondo me l'Inter può vincere questa gara. Sono sempre Evaristo, scusate se insisto.